Ciao Astronomers! Il controllo ambientale di ECHO2 è costituito per automatizzare il potere di calcio di calcio con l'EGLE basato sull'intervento, ma ci siamo anche presentati con un driver ASCOM che permette di importare i dati ambientali in software di terza parte. Vediamo come! Quando connessi il tuo ECHO2 con l'EGLE, puoi vedere tutte le dati ambientali in l'EGLE e si potrà automatizzare i dati ambientali basati sull'intervento calcolato con l'EGLE Ma se vuoi importare i dati ambientali in un altro software di fotografico, ci siamo anche un driver ASCOM dedicato che puoi trovare nel software software di ECHO2 che puoi download da nostra sita. Vediamo un esempio di nuovo con l'EGLE Con l'EGLE già connessione con l'EGLE, iniziamo il tuo software, in questo caso usiamo SQUENT GENERATOR PRO, poi selezza PLL ASCOM OBSERVING CONDITION driver in l'opzione di environment del sequencer window. Se clicchierai sull'icona SETTINGS, vedrai l'eGLE ASCOM con il status di connessione e i dati live che vengono dal senso ambientale. Se connessi l'eGLE a un computer Windows standard, qui dovrai selezionare il porto COM relato con l'eGLE. Pressa l'OK per cercare l'intervento e vedrai le dati ambientali dell'equivalente data di SQUENT GENERATOR PRO. Se usi un altro software come NINA, puoi cliccare su TAB WEATHER, selezionare PLL ASCOM OBSERVING CONDITION DRIVER e, di nuovo, puoi cliccare sull'icona SETTINGS per vedere le settimane driver come prima. Pressa l'OK per cercare l'eGLE e vedrai le dati in NINA WEATHER WINDOW. Iniziamo con la versione 3.0 di PLL ASCOM OBSERVING CONDITION DRIVER, puoi connessi l'eGLE a più software al stesso tempo. E se usi l'eGLE con l'eGLE l'eGLE stesso driver ti mostrerà l'iSENSOR DATA che mesura l'esplosione dell'esplosione. Per più contenuti che aiutano a esplorare l'università come un pro, iscrivetevi al nostro canale e... CLEAR SKIES!